L'autoscuola Sartini, con quattro sedi distribuite da San Pierdarena a Recco, vi accompagna al conseguimento di tutte le categorie di patente. Garantisce infatti la migliore informazione, grazie all'esperienza degli insegnanti e all'utilizzo di strumenti interattivi che supporteranno la preparazione nelle aule e online nelle esercitazioni a casa. Per venire incontro a tutte le esigenze, i corsi di teoria sono organizzati in fasce orarie diversificate. Inoltre è presente un ampio parco moto per il conseguimento di tutte le tipologie di patente A e un piazzare per gli esami per le due ruote a Pieve Ligure, ad uso esclusivo dell'autoscuola. Per gli autisti professionali sono disponibili corsi per il rilascio e rinnovo della carta di qualificazione del conducente e per il certificato di formazione professionale ADR. È possibile infine effettuare direttamente dalle varie sedi, tutti i giorni e in diversi orari, la visita medica per il rinnovo della patente. Autoscuola Sertini Dal 1947 A servizio dell'automobilista A servizio dell'automobilista The auto